via argentina questa è via scelsa contiamo la quantità di cartelli che questa ristorante pizzeria ha diffuso in questa zona pregiatissima della città 1 234 quelli sul muro ma attenzione ai cartelli su piazza del gesù si arriva veramente a dei livelli incredibili ecco qua con questi fanno sette cartelli e questa è la chiesa del gesù